Buongiorno, ben trovati 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 Napoli, ricorso bocciato, nella capitale si ricandida Marino. E poi vedete questa foto a centropagina, Mosca, prigioniera del doping, l'atletica, verso l'addio ai giochi. E andiamo avanti da Repubblica, siamo alla stampa, allarme migranti, vertice al Quirinale. Il governo teme 140.000 arrivi in Puglia dopo il blocco dei confini in Slovenia, Croazia e Macedonia. E poi a centropagina, Renzi sfugge al caso primarie, Napoli respinto il ricorso di Bassolino, a Roma il caos schede bianche, il segretario PD non interviene. E andiamo ancora avanti, siamo al quotidiano economico, il sole 24 ore, le borse scommettono sul bazooka della BCE, balzo del petrolio, il Brent tocca 41 dollari al barile e dunque borse in rialzo. Come vedete i listini di ieri, Milano una delle migliori, anzi la migliore, con più 1,06%, Parigi 0,49%, Francoforte più 0,31% e Madrid più 0,24%. E siamo al messaggero, schede gonfiate, colpa nostra, il PD ammette il boom a Roma di bianche e nulle per aumentare l'affluenza. 2.816 in più, a Napoli bocciato il ricorso di Bassolino, scontro tra i democratici, la sinistra pensa a liste separate. E poi politica, c'è l'intervista al leader del centrodestra Berlusconi, niente patti con Renzi, su Roma chiediamo lealtà a Salvini. E poi l'atroce delitto di Roma, giallo sulla coltellata fatale, scambio di accuse fra i due killer in corso, proprio in queste ore, gli interrogatori dei due giovani accusati di aver ucciso un loro coetaneo. E poi la vicenda dei nostri connazionali uccisi in Libia, uno dei rapitori chiamava dalla Libia e parlava italiano. La vedo a Failla, cinque telefonate, mio marito disperato, le salme in Italia, schiaffo di Tripoli, autopsie eseguite. Poi un'altra notizia che arriva dal vicino Molise, perché a Campomarino è stato arrestato un somalo che minacciava di compiere attentati nel nostro paese, in una delle intercettazioni avrebbe detto Faccio saltare Roma. Proseguiamo, siamo al quotidiano Il Giornale, pagavamo il profugo imam che stava per far saltare Roma, ecco questo è il titolo che abbiamo visto anche sul messaggero Libia, una vedova accusa, i rapitori parlavano italiano, dunque si parla del problema immigrazione ma anche della vicenda dei nostri connazionali in Libia. Poi la politica, il PD nel panico legalizza i brogli, la lettera di Bruxelles a Renzi, 30 giorni per fare una manovra bis. E poi il candidato di Forza Italia, quel Bertolaso sconosciuto, medico dei bambini in Africa. E andiamo ancora avanti con un altro quotidiano di area centrodestra, si tratta di Libero, qui si parla di economia, occhio al mutuo, le banche alzano i tassi, ecco come pagare di meno. E poi la Biura di Don Prodi, niente benedizione, a Pasqua solo ovetti. Abbiamo visto anche questo titolo dal quotidiano La Stampa. Siamo al Foglio, quotidiano che tratta in particolare problematiche di natura politica. Vediamo un titolo che riguarda il Premier, il Presidente del Consiglio Renzi. Renzi appeso, si legge in questo articolo, al paradigma con falonieri. Proseguiamo, siamo al quotidiano di Roma, il tempo. L'imam predicava la strage, bomba alla stazione Termini, richiedente asilo, progettava l'attentato preso a Campobasso. Charlie Hebdo è un precedente, la via è farsi saltare in aria. Dunque anche sul tempo grande spazio all'arresto di questo imam in Molise. In alto l'omicidio Varani, parla l'ex fidanzato di Marco Prato, la difesa con Luca, gioco erotico, finito male. E poi un titolo che riguarda Roma in particolare, intesa sull'impianto giallorosso, ad aprile il dossier completo. Sullo stadio è fatta, arriva la firma, potrebbe nascere nei prossimi anni ed obbligo usare il condizionale, il nuovo stadio a Roma. Siamo al quotidiano in mattino di Napoli, primarie e scontro nel PD, respinto il ricorso di Bassolino, lui rilancia, farò appello e studia una lista civica. E poi questa storia di questa donna, operata ad Atene con il cyberknife dopo il no di Bari, così ho sfidato il tumore e salvato mia figlia. Siamo al quotidiano della CEI, avvenire, ma il futuro non è filospinato. Si parla ovviamente delle misure restrittive adottate in alcuni paesi contro gli immigrati, soprattutto in Slovenia, Serbia, Croazia e Macedonia. È bloccata la rotta balcanica dei migranti, l'Unione Europea dice decisione comune. E poi anche su avvenire ritroviamo un richiamo, un titolo, sull'arresto dell'imam nei pressi vicino in provincia di Campobasso. Colpo a Roma, arrestato imam. E poi anche qui vedete Libia, fa il rapito e poi assassinato, la telefonata che è stata fatta ascoltare dalla moglie, agli inquirenti, ma anche ai giornalisti. Scusate, lasciato solo. Moglie accusa. E siamo al quotidiano. L'Unità giochi con le frontiere, vedete questo titolo, il Nord Europa chiude le porte, noi migranti da Slovenia, Bosnia, Macedonia e Ungheria. Reazione a catena sui confini sigillati dei Balcani ed in Grecia 40.000 rifugiati bloccati. Uno dei paesi che sta pagando le conseguenze più pesanti di questo continuo arrivo di migranti è proprio la Grecia. Vedete questa foto davvero emblematica che troviamo nella prima pagina del quotidiano L'Unità. E poi un titolo che riguarda la politica. In basso, Bassolino, no al ricorso e Bersani torna all'attacco. E siamo al quotidiano Il Manifesto, Colpo Basso, questo titolo che riguarda ovviamente la politica. Colpo Basso sta per Bassolino. Il comitato delle primarie boccia infatti il ricorso di Bassolino. È arrivato tardi. L'ex governatore dice farò appello, sentenza preconfezionata, ma per i vertici dem il caso è chiuso. A Roma si sgonfiano le schede bianche, abbiamo sbagliato i conti. Morassut dice il PD, non si nasconda la verità. Siamo al quotidiano Il Fatto, quotidiano, fanno come vogliono. Renzi piglia tutto, Napoli respinto il ricorso di Bassolino. Rai occupazione totale, PD primarie truccate ma è tutto regolare. Poi Rai 3 normalizzata, fuori Giannini, Iacona ridotto e Tg3 di governo. Sono questi i titoli del Fatto quotidiano. E poi Libia, l'ultimo ricatto sulle salme. Napolitano mette in riga Renzi. Chiudiamo con il quotidiano La Sicilia. Così il mio salvo ci chiedeva aiuto. La moglie di uno dei due operai uccisi in Libia fa ascoltare le telefonate del marito e dice non è stato tutelato autopsia a Tripoli, minacciati i nostri rappresentanti. Le salme rientrate in Italia nella serata di ieri. Con il quotidiano La Sicilia noi possiamo chiudere, per quanto riguarda il sito del Ministero degli Interni, abbiamo visto i titoli principali dei quotidiani nazionali. Noi ora torniamo al centro per andare a vedere, prima dell'appuntamento con il meteo, intorno alle 7.20, dunque tra qualche minuto andiamo a vedere i titoli che riguardano la cronaca regionale. Partiamo dalla prima pagina del centro. Istituti tecnici e professionali. Qualcosa non va. Si parla delle preiscrizioni nelle nostre scuole. Il successo dei licei tradizionali, malgrado l'avvicinamento al mondo del lavoro, sono scartati da più di uno studente su due, proprio gli istituti professionali. Il direttore dice che occorre intervenire. E poi vedete i dettagli delle preferenze. Boom di scienze applicate sotto la media. Il liceo linguistico. Proseguiamo. D'Alfonso, l'attacco della mobile, l'inchiesta sulla City, stimo il magistrato, non chi sotto fa attività giudiziarietta. Uno in particolare. Questo, quanto detto ieri dal governatore della Regione, si vuole ostacolare un procedimento, gettare fango su alcune persone. Il nome, certo che lo farò e mi auguro che sia oggetto di accertamento penale, ha detto il Presidente della Regione. Sempre ieri, in Consiglio regionale all'Aquila, è stata sfiorata la rissa con Pietrucci. Il consigliere grida al governatore, tu con me il fascista non lo fai, rispetta la mia gente e la mia terra. I due separati dall'intervento dell'assessore Paolucci. Dunque ieri alta tensione in Consiglio regionale all'Aquila, proprio nella prima seduta che si è tenuta nel capoluogo di Regione, dopo il termine dei consigli regionali che si erano avuti nel periodo invernale a Pescara. Siamo arrivati poi alle cronache provinciali, allora possiamo andare a vedere brevemente anche le pagine d'Abruzzo del Messaggero. Tra qualche minuto parleremo ovviamente poi di meteo, perché come abbiamo potuto e avete potuto vedere, nelle ultime ore sono peggiorate le condizioni del tempo nella nostra Regione. Tra l'altro sono annunciate ancora piogge per i prossimi giorni. Ma andiamo a vedere la prima pagina del Messaggero, cronaca d'Abruzzo, riordino sanità. Ecco chi si salva, decreto Lorenzin, il piano al rush finale, reti ictus di secondo livello, solo all'Aquila e Pescara, nessun ospedale regionale, declassati due primari su dieci, trema medicina dell'Università dell'Aquila. E poi vedete il titolo che ritroviamo anche sul Messaggero, D'Alfonso, lite con Pietrucci, e poi a fondo sul caso la City. E la foto della prima pagina dell'inserto d'Abruzzo del Messaggero che riguarda la vicenda della Brioni, ieri si tinna a Pescara. Brioni, l'impegno del Ministro Guidi. Andiamo ancora avanti, vedete la seconda pagina che riguarda la sanità, la nuova bozza, reti ictus di secondo livello, solo all'Aquila e Pescara. Decreto Lorenzin, contrattazione con il Ministero al rush finale, perderanno il posto, il 15% dei primari, e poi c'è l'elenco completo. E poi anche l'altra vicenda di cui si è parlato nelle ultime ore, D'Alfonso contro il consigliere del Partito Democratico, Pierpaolo Pietrucci, Dilio finito, sul Masterplan arrivano quasi alle mani. Vedete questo fotogramma in cui si vedono i due discutere in maniera piuttosto animata. E poi, sempre per quanto concerne il Consiglio regionale, nuovo rinvio sull'accreditamento delle cliniche Valenza all'Ersi, ma Paolini dell'IDV si sfila dal voto. E poi l'altra vicenda che sta facendo rumore nelle ultime ore, il Governatore affonda contro la Polizia sulla City. Il PM è brava, ma chi indaga no? Presto farò i nomi. C'è un progetto dietro all'inchiesta. Il Movimento 5 Stelle interroga il Ministro degli Interni, Angelino Alfano. Dunque sono le 7.20. Noi prima di passare, ovviamente a dare uno sguardo alle pagine delle nostre province, ripartendo dal centro, poi passando al Messaggero per finire con il quotidiano La Città di Terra, e poi dando anche uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali. Dicevo, dobbiamo aprire come sempre, come ogni mattina, il capitolo relativo al meteo. Lo facciamo con il nostro meteorologo Giovanni De Palma, che vado a salutare. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Paolo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, Giovanni, è arrivata la pioggia, è arrivato il maltempo, c'è stato anche un calo delle temperature, piogge sulla costa, neve in montagna, oltre i 900 mille metri, tempo che è destinato a durare ancora e se eventualmente per quanto? Sì, Paolo, destinato a durare ancora questo tipo di tempo, perché la nostra penisola è interessata da una vasta circolazione depressionaria che dalla Sardegna tenderà ulteriormente ad approfondirsi, a spostarsi verso le estreme regioni meridionali, di conseguenza questa situazione espone la nostra regione a un richiamo di masse d'aria fredda dai quadranti orientali, a masse d'aria fredda provenienti dai vicini Balcani che manterranno attive condizioni di instabilità, in particolar modo sulla fascia orientale della nostra regione, dove se da un lato nelle prossime ore potrebbero esserci anche delle schierite dalla tarda mattinata, ma ancor più nella seconda parte della giornata, assisteremo a un nuovo aumento della nuvolosità con possibilità di rovesce e localmente anche delle manifestazioni temporalesche, più probabili ovviamente in serata e in nottata, mentre in mattinata il cielo più chiuso comunque interesserà il settore occidentale con possibili precipitazioni, ma saranno precipitazioni deboli a carattere sparso, nevose al di sopra dei 900 mila metri, almeno torna la neve sui nostri rilievi e questa comunque è una buona notizia. Poi Paolo questa situazione tenderà ancora a persistere nei prossimi giorni, anche se nella giornata di domani assisteremo a delle schiarite sulla nostra regione, ma saranno schiarite temporanee perché l'ulteriore approfondimento di questa figura depressionaria e lo spostamento verso Levante favorirà ancora degli annuvolamenti, poi nella giornata di sabato ancora una volta sulla nostra regione, sulla fascia orientale della nostra regione con possibilità di precipitazioni. Quindi è un deciso rinforzo invece anche dei venti dai quadranti nord-orientali che manterranno le temperature diciamo piuttosto basse, ma in linea con le medie stagionali. Poi anche nei primi giorni della prossima settimana sembrano, persiste un po' delle condizioni di instabilità, soprattutto nella giornata di lunedì, poi assisteremo, se la situazione sarà confermata, ad un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche. Paolo. Bene, grazie. Grazie a Giovanni De Palma. Dunque un quadro non certo idilliaco per quanto riguarda le previsioni per i prossimi giorni. Io prima di salutarci, Giovanni, ti faccio una domanda flash. Per quanto riguarda alcune regioni, nei giorni scorsi ci sono stati accumuli di pioggia piuttosto importanti. Per quanto concerne l'Abruzzo, ci saranno problemi sotto questo punto di vista oppure saranno piogge normali per il periodo? Ma diciamo che non ci dovrebbero essere particolari problemi, non è un peggioramento particolarmente severo quello atteso nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Tuttavia non si escludono delle formazioni temporalesche, in particolar modo lungo la fascia costiera e questo potrebbe favorire dei rovesci un po' più intensi che potrebbero creare localmente qualche infiglia in più. Ma tutto sommato si tratta di un peggioramento che non dovrebbe favorire fenomeni persistenti e comunque intensi. Ci potrebbe essere il temporale che è abbastanza intenso, ma nel complesso questo peggioramento non dovrebbe favorire fenomeni rilevanti. Grazie a Giovanni De Palma, l'appuntamento è con domani sempre alle 7.20 nel corso di mattino 6. Grazie Giovanni, buona giornata e buon lavoro. Grazie Paolo, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Ringraziamo Giovanni De Palma, vi ricordo il sito www.abruzzometeo.org un punto di riferimento importante per restare sempre aggiornati sulle previsioni del tempo nella nostra regione, vedete anche i live che arrivano dai quattro capologhi di provincia e poi c'è la pagina Facebook del nostro meteorologo anche questo un utile strumento per interagire con Giovanni De Palma. Allora noi proseguiamo con mattino 6, siamo alle pagine di Pescara del quotidiano Il Centro, ovviamente grande spazio sul giornale di oggi alla questione Brioni, la protesta per i 400 posti che sono a rischio la Brioni congela il piano degli esuberi, Lolli, gli stabilimenti resteranno aperti, il 16 vertice al Ministero vedete questa doppia pagina proprio sulla protesta di ieri con varie foto e poi le storie dei dipendenti rabbia e paura tra i lavoratori, abbiamo figli l'azienda ci aiuti. Noi andiamo a vedere cosa è accaduto ieri in piazza a Pescara nel servizio di Francesca Romanatesti. Forza ragazze facciamoci sentire, l'Abrioni non deve morire Scendono in piazza i lavoratori dell'Abrioni, il colosso del tessile che la scorsa settimana ha annunciato 400 esuberi sul personale una notizia che ha inevitabilmente preoccupato l'intero territorio il marchio nel 2012 era stato acquisito dal gruppo francese Kering entrando in una nuova fase sotto la guida del direttore creativo Brandon Moulin, da poco invece uscito dal brand Sicuramente un taglio di questo tipo significa deprivare completamente un territorio che è l'area Vestina non è un problema che riguarda solo la nostra provincia ma è un problema che riguarda l'economia regionale e quindi siamo qui questa mattina anche in attesa di essere ricevuti dall'assessore attività produttiva e vediamo di capire cosa succede A manifestare ci sono i sindaci dell'intera area Vestina venuti a sostenere il sindaco di Penne Rocco D'Alfonso Questa avvertenza recca con sé un caso drammatico che riguarda il destino di 400 dipendenti dipendenti dell'Abrioni un'intera area, l'area Vestina oggi è qui in difesa dei diritti di questi lavoratori perché non è giusto che per scelte imprenditoriali sbagliate siano i lavoratori a pagare ci sono 12 comuni rappresentati oggi L'appello è alle istituzioni, al ministro delle attività produttive ad un accordo che riporti sui propri passi la decisione che coinvolge 400 famiglie, in molti casi monoreddito Noi abbiamo chiesto come sindacato, come organizzazione sindacale a livello unitario, un impegno all'Abrioni di esplorare tutte le possibilità sia all'interno che all'esterno del gruppo per portare il lavoro alla Roma Style La maggior parte delle persone che vedete qua sono tutti operai e la maggior parte sono anche monoredditi situazioni in cui farebbero collassare tutte le economie pennese Questo è il servizio sulla vicenda a Brioni Noi ci fermiamo per qualche attimo poi torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6 Seconda parte di Mattino 6 ripartiamo dalle pagine di Pescara del Centro La Regione Bussa, l'ex Vertice, l'IAS CISL paghi i 19 milioni di fide a rimborsare dopo la condanna della Corte dei Conti la prescrizione del processo per truffa e associazione e poi cosa fa il docente universitario accusato di vendere gli esami da prof sospeso a commercialista Pansone prova a voltare pagina e poi in basso Siti Moda, ennesimo rinvio Beffa, presidente incompatibile il processo deve ricominciare da zero e poi Paparella di Luzio Presidente si è riunito il nuovo consiglio di amministrazione della fondazione andiamo avanti siamo sempre a Pescara siamo abusivi in casa nostra il Comune ci rilasci l'agibilità il dramma di 16 famiglie che hanno acquistato un appartamento nel complesso immobiliare della GMG da 13 anni attendono dall'ente i permessi ora per averli dovranno pagare migliaia di euro la cittadella incompiuta nel cuore dei colli mai realizzati i negozi e i garage sotterranei ma l'accordo di programma del 1996 li prevedeva e poi paga tagliate i portieri comunali i lavoratori lasciati senza divise e con lo stipendio mensile ridotto a 500 euro addio a Boris Colazzilli il fondatore di Radio Città la voce della sinistra dal 1996 al 2006 è scomparso improvvisamente a 53 anni lascia la moglie e due figlie piccole oggi pomeriggio alle 15 i funerali a Moscufo andiamo ancora avanti la buona sanità arriva il laser verde per curare la prostata a casa in sole 24 ore la nuova tecnica operatoria sbarca all'ospedale di Pescara e riguarda anche i pazienti con malattie cardiovascolari e poi vediamo qualche altro titolo dal fondo pagina studente del Galilei alla finale delle Olimpiadi di italiano si tratta di Davide Brandalise 18enne poi camera di commercio pronto il bando per i locali l'obiettivo il marchio di qualità e poi dall'8 marzo al weekend il Nettuno diventa osteria e siamo alla pagina dell'area metropolitana bollette da 2000 euro proteste all'ufficio era Francavilla code di utenti allo sportello della società del gas per richieste di pagamento da capogiro e scadenza ravvicinata ma è possibile rateizzare e poi militanti del partito democratico al Mumi per imparare a comunicare e siamo a Valle Mare di Cepagatti l'Ater ripara oggi i tetti delle case a San Giovanni Teatino Pertini il presidente più amato incontro celebrativo in municipio con politici docenti e giuristi siamo alle pagine di Montesilvano sempre dal quotidiano il centro più test sul saline un depuratore non più sufficiente l'assessore Vaccaro spiega perché il comune fa i conti con l'emergenza problemi anche sul collettore riverasco nomine nel CDA dell'azienda speciale Bufera sindaco contestato siamo sempre a Montesilvano e andando a spoltore le donne invisibili oggi all'Arcantrepim nazionale del film di Bruno Tarallo girato in Abruzzo siamo ancora nelle pagine dedicate all'area metropolitana di Pescara alla provincia di Pescara Montesilvano altre mamme protestano per la maestra cattiva poi spoltore lunedì arriva la Tirreno Adriatico ecco l'elenco in questo articolo delle strade chiuse Montesilvano Chiosco si cerca un gestore poi a Città Sant'Angelo addio al maestro Renato Iannucci appassionato di Fisarmonica suonava dalla finestra di casa sul corso e siamo alla pagina di Penne Popoli e dell'Alta Val Pescara partiamo da Penne casa di riposo a rischio per anziani e rifugiati Penne la relazione ispettiva dei carabinieri del NAS mette in luce una lunga serie di irregolarità alla De Sanctis del Bono sanzionata la gestione dell'ASP di Pescara e poi Popoli nomina blocca i lavori post sisma nell'ufficio per la ricostruzione manca un addetto alla firma degli atti e poi ancora Penne Russo e Mazzocchetti titoli di campioni regionali parliamo della squadra degli arcieri vestini poi Torre dei Passeri Open Day al via nel nido dei Passerotti siamo alla pagina di Chieti del quotidiano il centro la sentenza il professor Sabatino rinviato a giudizio il Gup Deninis rigetta la tesi della difesa non sarebbero stati i farmaci a spingere il neonatologo a palpeggiare le mamme poi siamo a Basto ladri in casa dell'imprenditore sparite argenteria e Porsche e poi Chieti venerdì santo percorso più breve il vescovo forte taglia di 130 metri la processione il rione in rivolta siamo alla pagina dell'Aquila sempre da quotidiano il centro turbativa d'asta e truffa appalto spazzaneve quattro a giudizio imputati due funzionari della provincia l'imprenditore pescarese Barbuscia beneficiario di una gara secondo la procura pilotata casa di riposo un topo morto in cucina siamo a Magliano De Marsi nella struttura sulla Cicolana il NAS rileva pessime condizioni igieniche e poi Vecchioni torna in cattedra per un giorno il cantautore all'Aquila all'incontro con gli studenti dice amate il greco e capirete cos'è la vita e siamo alla pagina di Teramo del quotidiano il centro giro d'affari da 500 mila euro scacco alla banda della cocaina facile arrestati sei albanesi residenti a San Nicolò il capo Teramo e come la Colombia spacciavano anche davanti ai figli piccoli ma su questa operazione dei carabinieri del comando provinciale di Teramo andiamo a vedere il servizio di Elisa Leuzzo dieci ordinanze di custodia cautelare di cui sei in carcere e quattro misure di obbligo di dimora con contestuale obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tutte rivolte nei confronti di altrettanti albanesi e il bilancio dell'operazione denominata Elio svolta dal reparto operativo dei carabinieri di Teramo e coordinata dal PM Andrea De Feis che ha portato al sequestro di ingenti quantitativi di cocaina per un valore sul mercato di 500 mila euro si tratta di un'importante indagine effettuata dalla procura di Teramo con la valida e incombiabile opera dell'arma dei carabinieri di Teramo del nucleo operativo che ha portato alla emissione di 10 misure custodiali nei confronti di 10 appartenenti all'etnia albanese per traffici rilevanti di cocaina le persone erano già conosciute le forze dell'ordine? stiamo parlando di persone con elevata pericolosità sociale che già erano state più volte denunciate anche per spaccio di sostanze stupefacenti e che hanno dimostrato attraverso gli accertamenti che sono sviluppati nel corso dei mesi una notevole pericolosità sociale con sistematici spacci non solo nel Teramo ma nell'Interland tra persone anche di ambienti di notevole possibilità economica questa operazione è conclusa oppure ci sono indagini ancora in corso? sicuramente come tutte le operazioni da una poi dopo ne vengono sviluppate altre quindi noi sempre con la collaborazione e il sostanziale apporto della procura faremo ulteriori riscontri anche da tutti gli indizi che abbiamo trovato nella mattinata e sicuramente non escludo che ci possano essere anche ulteriori svolti futuri nel corso dell'operazione che si avvalsa anche di intercettazioni e pedinamenti alcuni degli indagati sono stati ripresi mentre spacciavano in presenza dei figli di 2 e 3 anni siamo le pagine della cronaca delle nostre province sul messaggero partiamo da Pescara mercato etnico sgombero in arrivo dopo la tregua di agosto sono tornate bancarelle e false griffe vertice con il prefetto provolo per valutare l'azione di forza e poi vicenda che riguarda l'aeroporto di Pescara sconto fiscale per trattenere Ryanair e poi in basso niente gettoni dei consiglieri gli ex attiva vendono mimose e poi azione cattolica da domani il meeting con mille studenti a Montesilvano l'alberghiero si fa anche l'orto un'area di un ettaro in via dei marsi messa a disposizione dell'istituto De Cecco per realizzare un giardino didattico ieri il primo step del progetto di inclusione sociale che consentirà l'accesso anche a disabili e ipovedenti e poi laser a luce verde al posto del bisturi l'ipertrofia prostatica non fa più paura la regia del ministero per la crisi Brioni abbiamo visto il servizio qualche minuto fa ieri la protesta a Pescara e poi economia vini e turismo montano le aziende puntano sulla sud Corea ieri a Pescara è stato ospite in camera di commercio l'ambasciatore della Corea del Sud in Italia accompagnato invitato dal senatore di Forza Italia Antonio Razzi andiamo a vedere il servizio la Corea del Sud rappresenta la tredicesima potenza economica mondiale quarta di quelle asiatiche tra i marchi più noti colossi quale Samsung LG Hyundai in Abruzzo si aprono le porte alla collaborazione grazie all'intervento del senatore di Forza Italia Antonio Razzi non nuovo alle iniziative di collegamento tra paesi emergenti il suo Abruzzo far conoscere l'Abruzzo dove è situato l'Abruzzo perché molti non lo conoscono ma anche per aprire la strada ai nostri imprenditori dove possono commercializzare con altri paesi questa volta è stata la Corea del Sud ma ci saranno ancora altri ambasciatori che verranno qui a presentarsi davanti a un parterre di 40 imprenditori l'ambasciatore coreano Yong Yun Lee che spiega di essere in visita per sondare le potenzialità di mercato della nostra regione offrendo la possibilità di proporsi a tutte quelle imprese interessate alla Corea del Sud questo è una buona opportunità oggi attraverso il seminario per conoscere di più i settori di attività e di sviluppo che possono esserci con la regione Abruzzo nel momento in cui le imprese abruzzesi fossero interessate a incontrare o a fare scambi e tecnici commerciali con queste imprese coreani noi potremmo comunque organizzare un luogo e altre varie opportunità di collaborazione future l'Abruzzo non è nuovo nei rapporti di esportazione con la Corea infatti come spiega il presidente della Camera di Commercio di Pescara solo due anni fa sono già stati stretti i rapporti economici che oggi toccano la cifra di 26 milioni di euro sull'intero territorio la Corea infatti si presenta come una terra economicamente ricca e ricettiva a giugno partirà una nuova ci sarà una nuova missione che siamo convinti sarà numerosa anche questa stamattina ci sono 40 aziende che si sono iscritti a partecipare all'incontro con l'ambasciatore lì e con il direttore della Camera di Commercio Italo-coreana il dottor Martorana stiamo parlando per l'Abruzzo di 26 milioni di euro di esportazione base 2014 e che sembrano un numero non importante ma se tiene presente che c'è stato un aumento di quasi il 30% siamo passati da 20 milioni a 26 milioni nel giro di un anno lei capisce che è un mercato assolutamente interessante Andiamo avanti siamo alle pagine dell'Aquila del Messaggero negozi 200 mila euro per tornare in centro a breve un bando che consentirà a commercianti artigiani e liberi professionisti di fruire di benefici per riaprire l'attività Di Benedetto pubblica su Facebook le strade richiuse dopo gli scavi e poi mezzi spazzaneve in quattro a processo riordino degli ospedali le paure dell'università per la facoltà di medicina siamo sempre all'Aquila la rettrice Inverardi il prorettore Masciocchi temono ripercussioni negative per la mancanza di chiarezza e poi l'evento Vecchioni incanta giovani e non nell'incontro con gli studenti del liceo e nel pomeriggio l'auditorium del parco e poi venerdì santo processione incontro confronto con Chieti scuola l'alberghiero avrà la palestra andiamo ancora avanti Avezzano sul Mona mazzata della Corte dei Conti per il nuovo municipio siamo ad Avezzano la procura regionale cita per oltre 5 milioni di euro ex amministratori della giunta Floris messi in Mora De Santis Santoro Ridolfi Cosimati Gallipoli Boleo Di Cola Mancini e Bianchini sempre ad Avezzano l'assessore i parcometri ora funzionano Castel di Sangro chiuse ostetricia e ginecologia sul Mona panico davanti alla scuola di via Togliatti per sorcorrere il figlio investito madre abbandona l'auto che si sfrena poi Magliano De Marsi blitz del Nass in una nota casa di riposo trovato un topo e poi addetti trasferiti si scatena la polemica siamo nella zona della piana del Fucino pagina di Chieti niente sconti dal GUP Sabatino rinviato a giudizio il processo per l'ex capo di neonatologia del Policlinico inizierà il 5 aprile i farmaci disinibitori per il Parkinson la perizia non smorza l'esito dell'inchiesta è poi vietato giocare allo scalo il comune chiude i parchi in basso tribunale ecclesiastico cause di divorzio quadruplicate infine abuso per gli interinali in provincia la Corte dei Conti ha archiviato la vicenda delle assunzioni contestate siamo alla pagina di Lanciano Vastortona il centrodestra può battere pupillo siamo a Lanciano comunali per la prima volta le primarie nell'opposizione patto d'acciaio tra i tre candidati appoggio totale a chi vincerà Vasto sosta selvaggia in centro divide i residenti sempre a Vasto rubano il Cayenna al titolare della Sat Ortona l'istituto comprensivo deve traslocare sempre ad Ortona zero vongole in mare la flotta è a rischio siamo alle pagine di Teramo e Teramo provincia istituto zooprofilattico gettone ridotto ai membri del CDA 6 kg di cocaina scattano 10 arresti abbiamo visto il servizio morì a 27 anni disidratato nuova perizia per piccioni e poi la pagina di Giulianova Roseto Valvibrata in fiamme nella notte l'auto di Antenucci siamo a Giulianova la sua rover era nel recinto di casa il calciatore gioca nel Leeds e poi Martinsicuro rapinatore in azione all'ufficio postale sempre Martinsicuro CGL chiusura di tre giorni in attesa della nuova sede a Giulianova processionaria nel parcheggio dell'ospedale e dello scientifico siamo arrivati alle pagine dello sport ma dobbiamo andare a vedere insieme lo faremo tra qualche istante le pagine del quotidiano la città di Teramo poi parleremo di sport per iniziare a avvolgere lo sguardo per quanto riguarda le nostre squadre alla prossima giornata di campionato ma dicevamo dobbiamo andare a vedere le pagine del quotidiano la città di Teramo vediamo intanto la prima pagina per vedere i titoli principali si tratta in questo caso di un titolo che riguarda la cronaca il camorrista e l'infermiera la polizia penitenziaria scopre una relazione pericolosa nata tra le mura del carcere di Castrogno e poi vedete in alto la notizia che riguarda l'operazione dei carabinieri a Teramo cocaina bloccato un giro da mezzo milione di euro e poi Martinsicuro rapina mano armata all'ufficio postale andiamo a vedere le pagine interne del quotidiano la città Abruzzo la Corea del Sud cerca l'impresa l'ambasciatore in Italia incontra anche Razzi Seul mi ha chiesto aiuto con il Nord vado ad agosto abbiamo visto proprio il servizio sulla visita dell'ambasciatore della Corea del Sud alla Camera di Commercio di Pescara in basso aspiranti terroristi nel centro di accoglienza di Campobasso una conversazione intercettata rivela come un giovane somalo stesse reclutando seguaci per la guerra santa proseguiamo amore pericoloso dietro le sbarre di Castrogno l'aggressione di un agente della polizia penitenziaria porta alla luce una relazione tra un camorrista ed un'infermiera e poi la campagna verità per Giulio Reggeni aderisce anche il comune di Teramo cocaina bloccato un giro da mezzo milione questa l'operazione i numeri importanti dell'operazione dei carabinieri del comando provinciale di Teramo abbiamo visto poco fa il servizio di Elisa Leuzzo altri ritardi sulla riqualificazione di via Longo siamo a Teramo d'Alberto lo sgombero delle palazzine andava completato nell'autunno del 2014 gli anni persi sono 4 proseguiamo promossa la chirurgia toracica del Mazzini l'agenzia sanitaria nazionale Agenas rileva che il tasso di mortalità nel reparto è tra i più bassi d'Italia e poi poesia dialettale per sostenere due progetti sociali il volume di concezio del principio finanzierà le iniziative benefiche destinate all'autismo e ai non vedenti e poi ancora a Teramo Rudy Di Stefano ha fatto marcire le pratiche della ricostruzione dopo l'allarme lanciato da Montorio il consigliere Bartolini attacca l'assessore sulla mancata programmazione provincia babysitter e asilo come premi produttività la vicepresidente della provincia Barbara Ferretti auspica misure e nuovi modelli aziendali in favore delle donne proseguiamo la pagina della Val Vibrata rapina a mano armata alle poste Martinsicuro con il volto coperto portano via un bottino di mille euro ancora Martinsicuro il PD chiede chiarimenti sugli aumenti delle bollette del gas e a Civitella del Tronto anche il consigliere Luca D'Alessio attacca il sindaco sul centro migranti siamo la pagina di Giulianova l'ospedale destinato al Maxiospizio mercante consigliere regionale del Movimento 5 Stelle dice totale declassamento e Mastro Mauro non batte ciglio cronaca a fuoco la macchina del calciatore Mirco Antenucci la Land Rover parcheggiata in via Lombardi distrutta completamente dalle fiamme e poi parliamo di ambiente raccolta differenziata al 71% l'amministrazione di Roseto presenta i dati del primo bimestre del 2016 la prova del 9 arriverà con l'estate vedete nella foto il sindaco la foto in basso il sindaco Enio Pavone sicuramente un ottimo risultato per quanto concerne la raccolta differenziata nella città di Roseto e noi siamo ancora a Roseto dobbiamo estendere la stagione turistica chalet alberghi e commercianti chiedono maggiore pubblicità ai futuri amministratori cittadini in basso Pineto nasce una nuova associazione di commercianti e fa già discutere cultura l'arcivescovo con la passione per i fiori personaggi nel 1576 nacque a Giulianova Giuseppe Acquaviva l'alto prelato con il pallino del collezionismo floreale andiamo ancora avanti per arrivare allo sport in questo caso sulla città si parla del teramo in questa pagina Campitelli detta le condizioni a Vivarini il patron del teramo lancia un messaggio chiaro al mister Biancorosso resta se si riduce l'ingaggio e noi visto che siamo alle pagine dello sport andiamo a vedere quelle del centro e del messaggero siamo alle pagine dello sport del centro parliamo del Pescara Vitturini devo tanto a Baroni ma lo batterò Oddo intenzionato a lanciare il terzino sabato col Novara torna Lapadula a guidare l'attacco Biancazzurro in difesa Forfè di Campagnaro forse rientrerà con il crotone di coda Zampano è squalificato e in alto si parla ancora della vicenda di Rolando Mandragora vicenda che ha investito drammaticamente ed indirettamente il giocatore del Pescara perché due sere fa è stato ammazzato a Napoli a colpi di pistola lo zio del calciatore tra l'altro vigile Urbano ieri a Pescara proprio per salvaguardare il giovane giocatore Biancazzurro è arrivato il procuratore di Rolando Mandragora Vincenzo Pisacane che andiamo ad ascoltare in questa intervista Purtroppo è capitata una cosa che nessuno di noi si aspettava in primis lui e quindi voglio solamente che lui stia tranquillo e che comunque stia sereno nel suo dolore non voglio io sono qui oggi anche per dire questo che vorrei che non si strumentalizzasse questa cosa nei confronti di Rolando un ragazzo di 18 anni che deve stare tranquillo e deve provare a dimenticarsi in fretta di quello che è accaduto purtroppo non sarà facile per lui perché è normale un parente è il fratello della mamma quindi se avete letto la carta stampata di oggi da soli potete capire che parliamo di tutt'altro nel senso lui era purtroppo un vigile urbano quindi una persona che faceva capo alle forze dell'ordine quindi escluderei ogni tipo di cretinata mi permetto di dirlo che è uscito su alcuni siti alcuni giornali parliamo di tutt'altro purtroppo saranno poi l'inquirente a stabilire il perché e per come io non voglio fare quello voglio solamente dire che sono vicino alla famiglia perché in un momento del genere è l'unica cosa che mi viene da dire lei si è anche sentito con Marotta della Juventus no io ho sentito tutti della Juventus a parte che sono stati vicino perché penso che sia giusto così e poi vogliono che il ragazzo stia tranquillo nel senso che che non sia strumentalizzato più che altro tutto questo perché penso che già sia abbastanza forte quello che è successo non credo che vada anche strumentalizzato Parliamo del Lanciano Ferrari suona la carica non fermiamoci ora dice l'attaccante Rosso Nero galvanizzato dagli ultimi gol segnati che hanno portato punti pesanti ai frentani e poi in basso terzo deferimento altri punti in meno il 17 la discussione su ritardi nei pagamenti di ritenute e contributi del mese di ottobre e siamo al termo Peroni lascia la società Bianco-Rossa Vivarini futuro incerto improvviso divorzio tra il team manager e la società che da giorni cerca un EDS il tecnico resta e il presidente Campitelli dice dipende da lui ma non a cifre da serie B e poi l'Aquila Bruno Osanni al posto di peso il tecnico Peroni passa al 3-5-2 domenica l'Aquila giocherà a Sant'Arcangelo di Romagna e poi la serie D salta l'incontro tra i dirigenti prima le verifiche sui bilanci parliamo del Giulianova e poi Amiternina di Felice difficile salvarsi ci proviamo mazzata sulla Amiternina 3 squalificati multa da 1.500 euro e porte chiuse ancora avanti Volley la Sieco vince spera nei play-off parliamo di campionato decima giornata di ritorno Sieco Ortona che ha battuto il club Italia-Roma per 3-0 parziali di 25-21 29-27 25-14 e poi Tirreno Adriatico Os primo leader ieri il via con la cronometro di Camaiore lunedì tappa a Cepagatti e chiudiamo con le pagine dello sport del messaggero Crescenzi così si vince a Novara il biondo terzino pensa alla gara con il Novara che però si giocherà come vi dicevo prima a Pescara e poi parliamo anche di eccellenza Colavitto Vastese non siamo ancora in Serie D ma la Vastese è davvero vicina alla promozione tornando al Pescara Mandragora sotto shock ma a disposizione abbiamo visto l'intervista del suo procuratore e poi la Sieco si impone tiene aperta la strada per i play-off 3-0 con il club Italia-Roma parliamo del Lanciano Cragno tiene in ansia la retroguardia Virtus ancora in dubbio la presenza del portiere a Salerno poi l'Aquila Calcio San Domenico l'Aquila rigenerata dopo la sentenza Teramo per Rotta il campionato non è ancora finito un titolo che riguarda il Giulia Nuova fumata nera per la società dunque ancora problemi in casa giallorossa siamo giunti al termine dunque dell'appuntamento odierno con Mattino 6 grazie come sempre per averci seguito vi ricordo il prossimo appuntamento informativo della nostra giornata come sempre alle ore 14 per la prima edizione del TG6 grazie e buon proseguimento di giornata a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.